Questa è un'iniziativa che è nata nel 2003 con l'associazione Montanare Riperusse, originariamente poi abbiamo dovuto specializzarci in questa manifestazione perché ha preso i connotati di una manifestazione sociosanitaria, anzi possiamo dire qualcosa in più, è una manifestazione di carattere turistico e anche sociale. Ospitiamo ogni anno, in varie sessioni durante l'anno, almeno cinque sessioni, in almeno cinque sessioni ospitiamo circa 150 bambini e ragazzi che hanno problematiche oncomatologiche provenienti da tutta Italia. Questa manifestazione è voluta soprattutto da noi come soci dell'associazione ma anche sostenuta da circa 400 partner, sono circa 120 alberghi, sono una trentina di comuni, più decine e decine di prologo e associazioni culturali e poi c'è anche il mondo delle scuole, ci sono gli istituti comprensivi, quasi non tutti ma tantissimi ci sostengono, ci aiutano in qualche modo e anche in questo caso siamo a Massicelle in una scuola bellissima che ospita anche il museo del giocattolo e del gioco antico e per noi della vacanza del sorriso era veramente non obbligatorio ma era un dovere venire qui e far conoscere ai nostri ragazzini e alle nostre famiglie questa realtà cilentana che sta lavorando per la valorizzazione del gioco antico e vi posso dire che i nostri ragazzi stanno apprezzando benissimo questa iniziativa e stanno giocando sia per divertirsi ma anche per creare delle relazioni con i ragazzini cilentani perché abbiamo pensato anche con Angela Serra e la professoressa di creare queste relazioni tra i nostri ragazzi e quelli locali proprio perché il nostro obiettivo è di promuovere la solidarietà cilentana che c'è tutta però ecco la vacanza del sorriso è frutto della solidarietà cilentana il mondo della scuola lo sentiamo vicino e quindi per noi era doveroso portare i nostri ragazzi anche qui in visita Sono ormai diversi anni che abbiamo stabilito questo rapporto di collaborazione con l'associazione e la scuola è ben lieta di aprire le porte a questi bambini in un mese quando le attività didattiche ormai sono sospese ne siamo lieti perché la scuola è il luogo dell'ingontro per eccellenza è il luogo della relazione per eccellenza e attraverso il gioco si stabiliscono questi rapporti di conoscenza di arricchimento reciproco ma soprattutto si dà importanza ad un valore che la scuola insegna ed è il valore della solidarietà Anche io mi auguro che in futuro questa iniziativa possa assumere dei contorni più ampi e che questa collaborazione si consolidi nel tempo